Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video! Sono il vostro Lorenzo e oggi siamo qui tornati nella seconda parte costruiamo su Minecraft il meno tempo possibile e quindi ora passiamo dall'interno del tetto come ho finito l'ultimo episodio esattamente così poi ho deciso di prendere la questa, la terracotta verde e di riempirla nel retro quindi fare una cosa più bella e poi viene così ora che abbiamo fatto tutto questo dobbiamo passare al detailing il detailing è una pratica che in inglese significa se voi siete abbastanza studiati detailing significa dettagli quindi dettagliare la propria casa e migliorare tipo con finestre e robe varie in questo modo quindi ora ora che abbiamo fatto la casa in un prossimo video farò il dentro spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto anche la casa commentate e mettete un like iscrivetevi se ne avete voglia e buona giornata